ok adesso vi spiego come usarlo però innanzitutto vi consiglio di andare sul sito principale ipfs.io cioè io in italiano e qui è possibile cliccare su provalo e guarda il demo ci sono un sacco di informazioni qui se volete leggerle c'è anche dei docs, blog c'è di tutto e se guardate sapete l'inglese potete trovare un sacco di video su internet di conferenze e di punti che ne hanno parlato ma andiamo alla parte diciamo al fulcro allora schiacciate su trite e da qui è possibile scaricare il ipfs il client quindi scaricandolo se voi avete windows piuttosto che mac piuttosto che linux potrete ottenerlo e dovrebbe già indirizzarvi sulla vostra platform cioè sul vostro tipo di sistema operativo io ho linux e o meglio per la precisione o arch quindi è già trovabile nel package manager ad esempio in questo caso faccio pacman ss ipfs e qui c'è go ipfs ovvero ipfs scritto in go c'è anche scritto in javascript nel mio caso utilizzo quello in go ma nel caso contrario potete scaricare semplicemente il pacchetto scompattarlo e utilizzare e punto barra ipfs e quindi potrete avviarlo prima di ogni comando io scriverò solo ipfs ma nel caso voi non lo si tagliate ma utilizzate soltanto il pacchetto fate che fare punto barra ipfs nella directory in cui l'avete scaricato e potrete fare tutto quello che io sto facendo attualmente quindi una volta installato la prima cosa da fare se riesco a chiudere la prima cosa da fare è fare ipfs init ovvero inizializzate il la vostra il vostro interplanetario file system invio e vi da un'identità questo è il diciamo la vostra identità unica nel nel web cioè nel web nell'interplanetario file system qui vi da alcuni esempi di come fare utilizzarlo allora la prima cosa da fare dopo aver fatto l'init e lanciare il daimon quindi avvieremo un istanza che ci permette di collegarci alla rete se clicchiamo invio parte ma noi se gli facciamo la e commerciale lo lasceremo in background in questo caso lo lascio aperto in consuetudine e apri un altro terminale da dove lancio i comandi ora vediamo che sei collegato a tutti questi indirizzi o meglio sei collegato mi ha aperto una porta tramite la quale io posso accedere per per vedere i file cioè la 8080 dove posso accedere per inviare i dati allo swarm ovvero a tutti quelli collegati e tramite cui io posso ricevere dallo swarm allora mettiamo che al momento io voglio aggiungere un file come faccio creiamo una cartella la chiamiamo tutorial ipfs ora questa cartella la utilizzeremo per fare i nostri test quindi apriamo un terminale all'interno di questa cartella quindi faremo cd tutorial ok qui dentro noi vogliamo aggiungere un file quindi ad esempio ci creiamo crea documento lo chiamiamo file prova all'interno di file prova scriviamo testo di prova semplicemente ok salva chiudi ora io voglio aggiungere questo file alla rete e voglio che sia condivisibile tra tutti quanti il comando da fare è ipfs quindi utilizzeremo ipfs e gli diamo add add praticamente dice aggiungi questo file e pinnalo ovvero pinnalo vuol dire che lo teniamo fisso sul nostro computer non verrà mai cancellato e inoltre verrà generato questo hash che ora vedete eccolo qrd bla 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 questo qui è praticamente il nome del vostro file o meglio l'indirizzo perché abbiamo tenuto questo perché ipfs a differenza del web tradizionale non va a interrogare ad esempio vai su youtube e dici cerca questo youtuber e gli dici quando sentate da questo youtuber cerchiamo questo video e guardiamo il video nell'ipfs funziona diversamente praticamente io dico direttamente ehi io voglio vedere questo video è dentro sul video e poi mi dice dentro questo questo video si trova nella cartella bla nella cartella bla bla che si trova nell'altra cartella bla 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 che nel computer mio quindi che succede che ora io posso dire voglio vedere quel video e lui mi dice ok allora ti invio i pezzettini relativi a quel video quindi ipfs cut che vuol dire si usa in linux per per far vedere che cosa c'è all'interno di un file e utilizzerò questo hash qui quindi copia incolla e gli do invio test di prova praticamente sono andato a interrogare la rete e mi ha detto sì effettivamente questo file esiste e all'interno di questo file c'è scritto test di prova ok l'ho visto cosa è successo adesso mettiamo che io non sia nel mio computer ma sia su un altro computer lui ha scaricato il file per tutti i pezzettini relativi e li ha copiati all'interno di una cartella questa cartella ora è nascosta si trova qui punto ipfs sulla home nel caso siate linux e all'interno di blocchi qui sono tutti questi blocchi con tutti i pezzettini di data ma se io non sono nel mio stesso computer ma sono online come faccio allora apriamo il nostro internet utilizziamo il gateway diciamo che ci fornisce già proprio i pfs quindi ipfs.io barra ipfs barra ora stiamo andando su internet non più sul nostro computer e l'hash che è stato generato invio ok non funziona poiché sull'ipfs utilizzando l'ipfs viene utilizzata la porta 4001 che a volte è bloccata quindi dovrete andare sul vostro router e sbloccarla andate sul firewall e gli attivate la porta insomma gli date una regola quindi ad esempio il nome dell'applicazione pfs se non sapete farlo cercate online qualche guida la trovate sicuramente ma se non avete come me la vodafone e avete altri ad esempio la telecom non lo blocca altre non lo bloccano quindi sicuramente voi non avete questo genere di problema probabilmente non avrete nel caso contrario gli date una regola quindi al nome dell'applicazione ipfs protocollo tcp va bene porta sullo sport 4001 ip di destinazione il p della vostra macchina che potete trovarlo se avete linux tramite ifconfig se no andate sulle proprietà della vostra connessione vi trova comunque l'ip connection information eccolo qua interfaccia bla 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 ip address questo qui ora porta di destinazione 4001 aggiungi regola eccola qui ora è possibile navigare attraverso l'ipfs salva ok è stata salvata e facciamo la prova rientriamo questo è un test di prova subito e immediatamente è uscito e sono entrato attraverso un gateway ovvero sono su web e non sono più sul in locale sul computer ora noi vogliamo cancellarlo o meglio sì vogliamo cancellarlo attualmente si trova nella check del gateway quindi dovrebbe essere possibile salvarlo comunque anche se ora io vado ad eliminarlo quindi per eliminare un file non basta semplicemente andare all'interno di tutorial ipfs e cancellare il file poiché è salvato sulla su una cartella a parte dell'ipfs quindi ad esempio se noi facciamo ipfs add o meglio ipfs pin ovvero i file che sono salvati sono salvati sul nostro computer e che continuiamo a distribuire anche se gli diamo magari una pulizia sono questi ed è possibile vederli tramite pfs pin ls ora io ho tutti questi file sul mio computer che sono pinnati e il nostro finiva con hv questo qui 6 hv ed eccolo qui salvato ora se noi vogliamo questo file eliminarlo dobbiamo dargli un ipfs pin rm di rimuovi invia unpinned quindi se ora gli do pin ls vediamo che il file è scomparso se venisse cancellato perché cancelliamo la check piuttosto che perché andiamo magari si rompe il computer o qualsiasi cosa noi questo file lo abbiamo perso quindi ad esempio una cosa che si può fare ipfs repo gc garbage collection ovvero vado eliminare i file non necessari non pinnati via sono stati rimossi questi pin ls e questi file non ci sono più tuttavia ce ne sono altri perché come dicevo siamo collegati alla rete e aiutiamo comunque la condivisione ma il nostro file che ci interessa il 6 hv è sparito ora noi vogliamo recuperarlo come facciamo chiudiamo questo andiamo ad aprire un'altra casella e gli diamo ipfs pin add in questo modo andiamo a pinnare e ad aggiungere questo file questo file che ha questo hash quindi invio pinnet recursively ed ora dovremmo riuscire a recuperarlo lo stesso nonostante l'abbiamo cancellato come avete visto quindi andiamo su tutorial ipfs ora questo file non c'è più ma io ce lo posso aggiungere in questo nel seguente modo cambia cartella e tutorial ok e qui io voglio salvarlo quindi tecnicamente è già salvato lo sto di nuovo condividendo però se io voglio proprio vederlo questo file posso farlo tramite ipfs get come dire recupera e gli do l'hash ora gli diamo invio e come potete vedere c'è questo file con questo hash entro questo è un testo di prova e ho recuperato il mio file che potrebbe essere non un file di testo ma potrebbe essere la foto del nostro gattino potrebbe essere una cosa in documento importante e potrebbe essere magari un video il video che ci interessava l'abbiamo recuperato da qualcun altro che ce l'aveva in questo momento nonostante noi l'avessimo eliminato completamente ora voi dite sì ok bello però questo cosa ha fatto ha preso il file l'ha salvato ma dopo me l'ha restituito con un nome tutto strano con tutto con tutto l'hash io non voglio l'hash io voglio il nome e quindi come faccio dovrei fare la stessa cosa di prima magari questo rinominiamolo subito e lo chiamiamo file di prova eccolo qui e noi vogliamo condividerlo proprio con tutto quanto il nome quindi siamo sempre su questa cartella gli diamo ipfs sempre add ma questa volta oltre ad aggiungere file di prova gli andiamo ad aggiungere una flag che è meno v meno v lui va a salvarmi il file ma anche l'informazione sul nome l'invio come vedete sono stati creati due file il file di prova che è unico nel mondo che quindi non morirà mai ma se qualcuno per caso vuole avere anche proprio il nome può ottenerlo utilizzando questo hash qui che è diverso e contiene alle directory con il nome praticamente facciamoci una prova accediamo su questo file tramite il gateway ecco qua e vedete che ora è stato creato una directory con il file di prova se io entro dentro c'è effettivamente lui e inoltre se io ora vado a salvarmelo quindi pfs questo cancelliamolo ho aperto i mille cancelliamolo io voglio recuperare quello ipfs gate e questo hash qui che è quello che contiene anche il nome invia vedete che mi ho scaricato una cartella che contiene sì l'hash intero ma all'interno di questo abbiamo file di prova con all'interno questo è un testo di prova ora è condiviso con il file con il nome quello che io vi consiglio però tuttavia è anziché per evitare tutti questi problemi è di fare una cosa diversa se voi volete condividere un file quindi andiamo a recuperare il file di prova di nuovo ok eccolo qui se noi vogliamo condividere questa cartella questo file io consiglio di creare una cartella che utilizzeremo soltanto per l'ipfs sempre e comunque e andiamo a crearli ad esempio file tutorial tutorial ok all'interno metto file di prova ora qui magari ci metto anche altri file come potrebbero essere gattini all'interno ci sono tutte le foto dei gattini che posso avere ora per salvare per condividere questa cartella voi potete fare più cose innanzitutto se vi interessa soltanto il file che duri per sempre volete condividerlo e non vi interessa il nome come abbiamo imparato sinora ma se voi ad esempio volete condividere tutto ciò quindi tutta la struttura di cartelle con tutorial con cartelle ulteriori gattini eccetera voi da fuori quindi andate ad aggiungere direttamente la cartella sull'ipfs quindi ipfs add recursively vuol dire proprio tutto quanto quello che sta all'interno di questa cartella tutorial ipfs se ora gli diamo l'invio lui va a creare una serie di hash che contengono proprio tutti quanti questi file quindi se ora io prendo questo hash che è l'hash di tutta la cartella come potete vedere tutorial ipfs all'interno io dovrei facciamo una prova dovrei poter recuperare ecco anche cartelle ulteriori file 2 tutto il resto quindi c'è tutto quanto tutorial file di prova se io voglio inviare proprio soltanto questo soltanto file di prova ma mantenendo la struttura e che lo vedano tutti posso anche utilizzare semplicemente questo indirizzo quindi hash tutorial file di prova oppure semplicemente tutorial questo potrebbe anche essere la struttura di un sito invio ed eccoci qua abbiamo ottenuto questo attenzione che se io dovessi cambiare per qualche motivo qualcosa all'interno quindi crea una nuova cartella nuova cartella se ora io vado a ricondividere di nuovo l'hash giustamente ora vedrò su quello che già pubblico la struttura già creata ma se voglio riaggiungere tutto r tutorial vedrete che è stato creato un hash differente che prima finiva con nx1 e ora finisce con z4y nel mondo continuo a esistere questa qui che abbiamo già creato ricarica e c'è però è stato creato un ulteriore hash che contiene un'altra struttura di cartelle con i file che hanno lo stesso hash comunque quindi i file rimangono immutati è soltanto stata modificata la cartella e la struttura di cartella all'interno come potete vedere tuttora ipfs esempio mmm continua a essere mmm e non è cambiato è sempre lo stesso file quindi se a me non interessano le cartelle che lo contengono io posso inviare il file e rimarrà però se voglio ad esempio condividere tutto quello che c'è all'interno posso utilizzare questo metodo ok ora abbiamo condiviso tutto quanto e abbiamo pure nuova cartella chiudiamo ora mettiamo che io voglio utilizzarlo per un sito web ad esempio voglio che il mio indirizzo sia fisso e che non cambi ogni volta perché sennò vado a confondere tutti quanti e non visitano più la mia pagina web